La riconversione in occupazione e sentenza dal Consiglio di Stato sono alcuni dei temi affrontati questa mattina nel corso di un incontro che si è svolto nei locali della FEMU Cagisla di Gela alla presenza del segretario nazionale Angelo Colombini. La sentenza dal Consiglio di Stato che ha bocciato le richieste avanzate da comuni e associazioni di sospendere le perforazioni e i completamenti di alcuni pozzi per la stazione del gas, adesso, dice Colombini, apre uno scenario completamente diverso. Noi dovremmo chiedere innanzitutto all'ENI di non tergiversare sugli investimenti, visto che il Consiglio di Stato ha rigettato con la sentenza il ricorso fatto da alcuni comuni e da alcune associazioni ambientaliste. Questo vuol dire che ENI deve rilanciare l'investimento immediatamente proprio per dare corpo all'occupazione del territorio, proprio per rilanciare sempre il territorio come peculiarità dei cittadini e dei lavoratori. Dall'altro lato il governatore e le istituzioni centrali governative devono sempre più frettolosamente dare le autorizzazioni per completare tutto il protocollo, perché non è possibile che per un'autorizzazione dobbiamo aspettare 6, 7, 8 mesi e questo andrà a discapito, purtroppo, con questo tempo perso, andrà a discapito dei lavoratori, sia quelli interni alla raffineria, ma sia quelli dell'indotto. Poi, se i tempi sono cosuliunghi, non possiamo lamentarci se i lavoratori e i cittadini si arrabbiano, fanno bene. Ora la responsabilità è che il governatore della Sicilia e i ministeri autorizzativi rilaccino sempre di più immediatamente le loro competenze. Intanto, il prossimo 19 settembre, incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, altro tavolo in merito ai lavori della Green Refinery. Noi adesso chiederemo anche un incontro a livello regionale per quanto riguarda tutte quelle autorizzazioni atte, che non sono solo perché quel protocollo prevedeva solo la perforzione, ma anche per quanto riguarda l'esplorazione, per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo. Una vera volta più chiara, Francesco Emiliani, cosa quel giorno la CIS la metterà sul tavolo delle trattative? Sicuramente quello che è l'immediata attuazione di quello che era un percorso che già Eni aveva detto per quanto riguarda l'acquisto dei materiali. Noi fermamente diremo di accelerare più velocemente quello che è l'acquisto e la realizzazione della piattaforma stessa. Per quanto riguarda la Green Refinery abbiamo avuto un incontro con Eni e sono in linea, possibilmente su quelli che abbiamo i prossimi incontri possiamo dare delle informazioni più dettagliate, se nel prossimo futuro, nel 2017, questo che siamo in linea è ancora fattibile. Emanuele Gallo, segretario generale CISL. Ad oggi ci sono responsabilità per quanto riguarda il governo regionale per l'autorizzazione alla perforazione a terra e nello stesso tempo noi abbiamo problemi per quanto riguarda la questione della cassa integrazione dell'indotto. Perché nell'ultimo incontro che c'è stato al Ministero dello Sviluppo Economico il sottosegretario Bellanova diceva di utilizzare circa il 5% della cassa integrazione in deroga che rappresentano circa 400 euro, una goccia nell'oceano. Per questo comunque deve intervenire il governo nazionale affinché dia la possibilità di dare cassa integrazione per le aree di crisi complessa nel nostro territorio.